La relazione dell'ASREM parla di un costante ed esponenziale aumento dei contagi in quasi tutti i paesi del distretto sanitario di Termoli. Il presidente della regione Donato Toma ne ha tenuto conto e ha firmato un'ordinanza che dichiara zona rossa quasi tutto il basso Molise. 28 paesi coinvolti dalla chiusura da oggi fino al 21 febbraio. A Campomarino, già in lockdown da una settimana, si aggiungono Termoli, Acquaviva con le Croce, Casa Calenda, Castel Mauro, Civita Campomarano, Colle Torto, Guardia Alfiera, Guglionesi, Larino, Mafalda, Monte Cilfone, Monte Falcone del Sagno, Monte Mitro, Monte Nero di Bisaccia, Montorio e Nefrentani, Palata, Petacciato, Porto Cannone, Ripa Bottoni, Rotello, San Felice del Molise, San Giacomo degli Schiavoni, San Giuliano di Puglia, San Martino in Pensilis, Santa Croce di Magliano, Tavenna e Ururi. Forte il sospetto della presenza di una variante del virus in un momento in cui questo provvedimento di chiusura appare necessario. Era inevitabile, ma non per il numero complessivo di contagiati, per la rapidità con cui si sta diffondendo questo coronavirus e soprattutto per il quadro clinico che noi andiamo a evidenziare nei soggetti contagiati, dove se prima la fascia di età era una fascia molto più alta, oggi abbiamo una fascia che va dai 6 mesi agli 80 anni, ma soprattutto la fascia centrale dei giovani che presentano tra l'altro un quadro clinico preoccupante. I sindaci coinvolti si sono ritrovati online chiedendo un incontro in prefettura per il rafforzamento dei controlli. Sulle scuole ogni comune deciderà se tenerle aperte o optare per la didattica a distanza, tenendo conto che molti sindaci hanno già disposto la chiusura. Attualmente mi sento con i presidi, per fortuna che li abbiamo chiusi perché purtroppo stanno spuntando come funghi. Quindi, come dire, meno male che abbiamo subito attuato l'idea di mettere tutti in didattica a distanza, perché purtroppo la scuola, quandounque, possa prendere tutti i provvedimenti e le giuste precauzioni, ma se c'è un positivo all'interno di una classe e per mani 5 ore in quella classe, soprattutto se questo virus è mutato, credo che si sarebbe fatto parecchi danni e quindi meglio così. Stop agli spostamenti immotivati, locali chiusi, eccetto che per l'asporto, mentre restano aperte soltanto quelle attività reputate necessarie. È consentito svolgere individualmente attività motorie in prossimità della propria abitazione, purché nel rispetto delle distanze. Sono appena uscito dalla farmacia perché avevo bisogno di un farmaco. Ritiene giusta la zona rossa? Sì, a questo punto sì, però si potrebbe anche fare a meno se funzionassero meglio le regole, o perlomeno chi le dovrebbe far funzionare. Ma se qua abbiamo gruppi di giovani, di 120-130 giovani, tutti ammocchiati, che si abbaciano, si acchiappano, è normale che l'epidemia cammina. Un po' di spesa si deve fare, per forza, non tanta perché siamo due persone solamente a casa. Rispettiamo tutte le regole e è anche troppo tardi aver messo la zona rossa, secondo me. Quindi lei è d'accordo? D'accordissimo. Abbiamo avuto un deceduto in famiglia e quindi so che cosa è il Covid. Molte persone non lo sanno e mi dispiace tantissimo. Lo negano e non va bene, perché chi lo prova sulla propria pelle è triste, molto triste. Giustamente ci hanno dato la nostra libertà, non siamo stati responsabili, secondo me, e quindi è anche bene contenere questa situazione in questo modo.